ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti nel mio canale io sono alex e per voi oggi andrò di informarvi che da oggi rispetto a quando sto registrando in avanti ci sarà una collaborazione tra me quindi alexandro de luca e quindi anche ovviamente il mio canale youtube e dei ragazzi che hanno un sito internet il sito internet ve lo lascio qua in sovraimpressione per tutta la durata del video così a meno di entra in testa il sito si chiama game tiles ed è un sito internet che parla di videogiochi visto che il mio canale è prettamente strettamente per i videogiochi ho deciso di fare una collaborazione con questi ragazzi che hanno questo sito internet che parla di videogiochi io vi consiglio veramente di andare a vedere questo sito internet perché è vero che in giro ce ne sono tantissimi che parlano di videogiochi ma io cerco sempre di andare a guardare quelli più più belli strutturati meglio quelli che danno più informazione quelli aggiornati e questo ha tutte queste caratteristiche che guardo io quindi ci sarà una collaborazione tra me e il mio canale youtube anche dentro il sito internet troverete il mio canale i miei video dentro anche quel sito internet e poi cerchiamo in tutti i modi quindi tutti voi utenti iscritti che siete iscritti al mio canale youtube di andare a guardare questo sito internet parla di videogiochi in questo sito ci sono le recensioni le guide su come andare a sbloccare una cosa piuttosto che un'altra le varie recensioni dei giochi quindi troverete tutto quello che è nell'ambito dei videogiochi grazie alla collaborazione che hanno adesso questi ragazzi quindi sito internet con me apporteremo delle modifiche al sito quindi aggiungeremo una sezione dedicata ai giochi di guida quindi che vanno da playstation 4 xbox one e pc quindi racchiudiamo tutta una cerchia di giochi di guida e faremo una sezione una sezione dedicata ecco una sezione dedicata per i giochi di guida quindi oltre a trovare tutti i vari giochi possibili immaginabili in questo sito troviamo anche adesso una sezione per i giochi di guida sarà ancora in work in progress questa sezione dedicata ai giochi di guida perché la collaborazione è stata stretta tra virgolette tra me e i ragazzi da poco più di un giorno quindi ci va un po di tempo per aprirla e permettere qualcosa di un pochettino più fruibile e godibile per voi che andrete a vedere questo sito però comunque vi invito ad andare a guardare questo sito internet gametales.it perché veramente merita io guardo ho sempre guardato tanti siti internet perché mi piace sempre rimanere aggiornato su tutte le news della settimana perché sapete che a me piacciono i giochi di guida però io comunque ho sempre giocato a tutti i giochi quindi le notizie e le news mi piacciono e continuo a seguirle adesso anche in questo sito è veramente un sito fatto bene quindi ripeto per l'ennesima volta di andare a godervi questo sito internet gametales.it che è sempre questo qua con il joystick fatto con il gufetto blu mi piace un sacco anche come logo ve lo lascio qua e vi lascio anche in descrizione il canale discord il canale discord che useremo proprio noi per andare ad ampliare la gente quindi se volete giocare a un gioco di guida entrate nel canale discord e sicuramente qualcuno che giocherà a un gioco di guida piuttosto che a un altro gioco li trovate lì insieme quindi se volete giocare insieme a qualcuno nel canale discord qualcuno assolutamente ci sarà è un canale discord è molto grande dove ci sono più di 700 persone quindi con le varie sezioni per racchiuse per videogiochi quindi qualcuno con cui giocare lo troverete sempre quindi vi invito di nuovo ad iscrivervi al mio canale youtube se non l'avete ancora fatto di andare a visitare questo sito internet e di iscrivervi al canale discord dove racchiude tutte queste persone appassionati di giochi di guida non giochi di guida comunque tutti insieme lì sul canale discord potremmo fare una cosa davvero molto molto interessante ragazzi ci tenevo a fare questo video perché almeno così voi che siete i miei iscritti potete tranquillamente andare a vedere questo sito internet basta cliccare sul sito in descrizione che vi metterò potete anche cliccare sul canale discord quindi ragazzi per oggi il video è finito spero che vi sia piaciuta questa mia iniziativa vi ricordo di lasciare come sempre un polliciozzo in su attivare la campanellina e mi raccomando commentate qui sotto io sarò molto lieto di rispondervi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video e alla prossima live ciao a tutti ciao